Questo giovedì mattina i tecnici del Comune, quelli di Nuove Acque, hanno definito la roadmap su Piazza Giotto. A seguito di interventi di sistemazione della piazza era emersa che una conduttura dello scarico fognario aveva necessità di realizzare un nuovo pozzetto di ispezione per poter agevolare anche le lavorazioni di sistemazione delle condutture e soprattutto di ispezione qualora ce ne fosse stata la necessità. Quindi in questi ultimi giorni abbiamo fatto questi lavori di ispezione e oggi abbiamo definito quelle che dovranno essere le lavorazioni che insieme a Nuove Acque porteremo avanti. Quindi dalla prossima settimana entrerà in cantiere la ditta che dovrà eseguire queste lavorazioni per conto di Nuove Acque e dopodiché riparteremo con le lavorazioni sulla piazza e quindi con quelle che erano le lavorazioni previste. Un imprevisto che diviene un'occasione per prevenire eventuali criticità dovuta allo smaltimento delle acque. In ogni caso, salvo ulteriori novità specialmente sul fronte delle forniture dei materiali, il cronoprogramma dei lavori non dovrebbe risentirne troppo. Dovevamo ultimare i lavori entro la fine del 2025. Questa è una data che sicuramente vogliamo mantenere e a meno che non ci siano altre problematiche, ma non ne vedo a come stanno oggi le cose anche perché i lavori comunque riguardano manutenzioni straordinarie e non entriamo particolarmente sulla parte dei sottoservizi con le lavorazioni. Quindi credo che non ci siano, quindi quella data per noi è da rispettare. Grazie. Grazie.